Il lungo lunedì di Marche Multiservizi si è concluso con la decisione che era nell'area dopo il corto circuito politico creatosi. Non sarà, costruita a riceci, la discarica da 5 milioni di metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi. Un primo successo per i manifestanti che anche ieri pomeriggio, alle porte del Consiglio d'Amministrazione di Marche Multiservizi, hanno manifestato il forte dissenso al progetto, ma la battaglia non si ferma perché la protesta si allarga alle ipotesi di discariche in altri siti. Mentre invece una discarica andrà fatta secondo Marche Multiservizi, che lo ha messo in chiaro attraverso un comunicato uscito in serata in cui la CDA ha deliberato all'unanimità di richiedere a tutti i comuni soci della provincia di Pesaro Urbino di manifestare la propria volontà ad ospitare un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi a mercato nel proprio territorio. Una tipologia di progetto che Marche Multiservizi reputa fondamentale per lo sviluppo economico finanziario dell'azienda e per preservare una solidità che le possa consentire di mantenere inalterato il livello di investimenti infrastrutturali e la qualità dei servizi fondamentali per la competitività del territorio. Il comunicato chiarisce che una simile proposta di realizzare la discarica andrà fatta per venire dai rispettivi consigli comunali entro il 31 dicembre. Si conferma anche che l'iniziativa sarà realizzata con la società Aurora SRL che, come si legge, ha richiesto la sospensione dei termini nell'ambito del Power sulla base dei contratti in essere, compresi gli interventi compensativi per il territorio ospitante. Intanto, dopo le recenti dimissioni, si è ricomposto anche il Consiglio d'Amministrazione di Marche Multiservizi con l'ufficializzazione dell'ingresso di Almerino Mezzolani.